scontri tra tifosi domenica pomeriggio in Viale della Regione a Caltanissetta prima della partita di calcio tra Nisse ed Enna intervento delle forze dell'ordine due panetti di hashish nella busta dei biscotti arrestato un giovane a Gela IACP interventi in palazzine di via Puccini parla il direttore generale dell'istituto autonomo case popolari Antonio Mameli le ragazze dell'alba verde ricevute dal vescovo dopo l'episodio del prete sorpreso a guardare donazione del midollo osseo protocollo d'intesa tra comune e Lions Club sabato sera nisseni con l'arancina protagonisti in tv la Nissa pareggia il Palmindelli 1 ad 1 con l'Enna ma a fare più clamore sono stati i tafferugli iniziali prima del fischio d'inizio della partita di calcio una cinquantina di tifosi di Nissa ed Enna si sono scontrati proprio vicino all'ingresso dello stadio ma l'intervento delle forze dell'ordine ha evitato il peggio pare che durante gli scontri ci siano stati alcuni tifosi che potrebbero avere riportato alcune ferite lievi e che nessuno di loro abbia avuto bisogno di recarsi al pronto soccorso adesso le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i protagonisti degli scontri i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di gela hanno tratto in arresto un 24enne nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i poliziotti della squadra investigativa nel corso di servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti hanno eseguito una perquisizione presso l'abitazione del giovane gravato da precedenti di polizia dove nel corso della predetta attività gli agendi su un terreno incolto di agende l'abitazione hanno rinvenuto una busta di biscotti con all'interno due panetti di hashish del peso lorto di 82,63 grammi altri 5,42 grammi della stessa sostanza sono stati trovati dentro il bauletto di un ciclomotore parcheggiato all'interno di un garage l'arrestato è stato condotto in commissariato per gli addembimenti di rito e su disposizione del pubblico ministero di turno presso la procura della repubblica di gela accompagnato agli arresti domiciliari sono passati circa quattro anni dal completamento dello sgombero di via puccini dopo un lungo processo e furono trovate altre sistemazioni per le numerose famiglie che vivevano in quelle palazzine adesso grazie ai fondi del PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza potranno essere realizzati alcuni degli interventi necessari così come ha spiegato il direttore generale dell'IACP Antonio Mameli durante la cerimonia di inaugurazione del tratto di via Piola Torre svoltasi nei giorni scorsi In via Puccini abbiamo avuto 64 alloggi sgomberati per problemi tecnici e fortunatamente con il PNRR abbiamo ottenuto l'ammissione al finanziamento dell'intero progetto relativo al recupero delle due palazzine ma la cosa più importante invece è che abbiamo ottenuto il finanziamento di parte di questo intervento per cui a breve sarà bandita la gara, i progetti sono stati presentati ed approvati per il recupero e la ristrutturazione delle palazzine ricorrenti nei civici 3 e 5 è un altro passo importante per la città perché anche quella zona come questa è un biglietto di visita per l'ingresso alla città perché chi arriva da fuori la prima cosa che incontra è proprio la via Puccini quindi vogliamo fare un intervento che caratterizzi la droga e soprattutto la qualifichi I progetti di videosorveglianza dell'Ornia e la sicurezza pubblica dei comuni di Caltanissetta Gialaniscemi, San Cataldo e Bonpensiere sono stati approvati durante la riunione del comitato provinciale presieduta dal prefetto di Caltanissetta in cui erano presenti i vertici delle forze di polizia e referenti della zona telecomunicazione di Palermo i progetti erano stati presentati dai comuni e sono stati selezionati dal Ministero dell'Interno all'interno del programma operativo complementare POC Legalità 2014-2020 proprio il prefetto di Caltanissetta e Chiararmenia ha rimarcato l'importanza dei dispositivi di videosorveglianza che assumono una particolare valenza per il potenziamento della prevenzione generale in un'ottica di sicurezza integrata anche a supporto dell'attività della polizia giudiziaria attraverso l'implementazione dello scambio informativo tra forze di polizia locale e quelle statali durante l'incontro i sindaci hanno illustrato le progettualità presentate tutti con lo scopo di rafforzare la presenza degli impianti di videosorveglianza nei rispettivi territori comunali maggiormente nelle aree più vulnerabili sotto il profilo della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica tra cui il centro storico e le aree ritenute strategiche in quanto interessate da episodi di criminalità diffusa nei prossimi giorni ci sarà un'ulteriore fase di esame da parte del ministero è bastata una telefonata con una richiesta di incontro è stato questo l'approccio con cui Monsignor Mario Russotto vescovo della diocesi di Caltanissetta ha manifestato a Doriana Mannella, presidente dell'Alba Verde la volontà di parlare con le ragazze della squadra dopo la vicenda che ha riguardato un prete colto a spiare le atlete negli spogliatoi del Palacannizzaro dove abitualmente si allenano e giocano sabato presso il seminario vescovile il presidente della società nissena e una delegazione di ragazze sono state accolte da Monsignor Russotto che ha voluto chiedere scusa a nome suo personale di tutto l'ordine sagittutale per l'ingrescioso episodio in una nota rilasciata dalla pagina facebook della società Oriana Mannella ha dichiarato che si aspettava una reazione da parte della curia e da credente ha apprezzato che sia stato il vescovo in persona a metterci la faccia manifestando il suo dolore per la vicenda rimane la volontà della dirigenza in comune accordo con le atlete in buona parte giovanissime e i loro genitori di seguire gli sviluppi della vicenda non essendo ancora chiaro se vi sarà un seguito giudiziario Nei giorni scorsi nella sala gialla di Palazzo del Carmine è stato siglato un protocollo di intesa tra il comune nisseno e Lions Club International distretto 108 YB Sicilia rappresentato dal presidente del club nisseno Salvatore Pilato il documento punta ad una sensibilizzazione sul tema della donazione del midollo osseo delle cellule staminali e emopoietiche e del cordone umbilicale con l'obiettivo di incentivare il numero dei donatori iscritti al registro regionale e quindi al registro italiano donatori midollo osseo Stando al protocollo verrà distribuito infatti del materiale informativo a tutti i cittadini in particolare nella fascia di età che va dai 18 ai 35 anni che chiedono il rilascio del documento d'identità Si inserisce in un programma distrettuale quindi che interessa tutti i Lions Club della Sicilia Il nostro protocollo ha come obiettivo fondamentale è quello di avviare una campagna di sensibilizzazione a favore della donazione degli organi che programmiamo di sviluppare in due momenti diversi perché intanto stiamo realizzando del materiale informativo che sarà presente nella sala del comune dove vengono rilasciate le carte di identità sappiamo infatti che il consenso alla donazione degli organi viene adesso espresso al momento del rilascio della carta di identità e quindi poi stiamo organizzando anche dei programmi di sensibilizzazione dei ragazzi che frequentano le scuole che poi verrà strutturato nel corso del prossimo anno quindi nei primi mesi del 2023 La donazione degli organi è assolutamente fondamentale come chiariscono i pannelli che stiamo realizzando è una scelta assolutamente importante perché donare consente di dare vita a delle persone che vivono in condizioni di assoluta difficoltà per problemi sanitari, per problemi di salute e quando è possibile la donazione spesso è utilissima per salvare la vita di queste persone Dal 2009, il 12 novembre, giorno dell'attentato di Nassiria è la giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace Era il 12 novembre del 2003 quando alle ore 10.40, ora locale le 8.40 in Italia un'autocisterna forzò l'entrata principale della base maestrale presidiata dai carabinieri italiani nella città di Nassiria in Iraq I due uomini a bordo fecero esplodere una bomba e la deflagrazione, con un effetto domino fece saltare in aria il deposito munizioni Il bilancio fu tragico morirono 12 carabinieri 5 soldati dell'esercito e 2 civili oltre 9 iracheni I feriti furono 20 15 carabinieri, 4 militari e un civile Anche a Caltanissetta, su iniziativa del gruppo consigliare della Lega in collaborazione con l'Associazione Nazionale Carabinieri di Caltanissetta sabato mattina alle 8.40 al monumento ai caduti ha ricordato l'evento con una deposizione di due corone d'alloro una messa nel pomeriggio a San Giuseppe e una deposizione di una corona di alloro anche alla sede Associazione Nazionale Carabinieri Sezione Ogulini È un giorno importante perché per la prima volta nel giorno del 19esio anniversario della strage di Nasseria siamo qui a commemorare le vittime in piazza, appunto, vittime di Nasseria inaugurata quest'anno ed inizio del 2022 dopo una mozione da me presentata ma votata da tutto il Consiglio Comunale che ancora ringrazio grazie a loro abbiamo potuto oggi qui commemorare le vittime ed ogni anno questo spazio sarà dedicato proprio alla commemorazione non solo delle vittime in Nasseria ma siamo alle spalle del monumento caduti e tutti caduti per servire la patria, per portare democrazia e pace in giro per il mondo Siamo molto contenti che il Comune abbia voluto ricordare questa giornata è così tragica per il nostro paese ma è così importante anche da ricordare nella memoria perennemente al ricordo di questo sacrificio che l'Italia ha pagato per portare la pace nei territori martoriati dalla guerra Sono tornati a casa con il sorriso e la gioia di avere raccontato il lavoro che c'è dietro ogni arancina speciale e le loro storie che sono fatte della quotidianità che vivono nella sede giorno per giorno è lì che stamattina siamo andati a trovarli nel piano di una delle loro attività su una delle pareti della sala un cuore che contiene i loro nomi quelli delle loro educatrici Raggi di Isole è l'incubatore da cui poi è nata l'attività da un laboratorio gastronomico fatto con il maestro Zuppardo come ha raccontato il presidente della cooperativa Etnos Quando uno dei nostri ragazzi, per l'appunto Andrea, ha detto sono stato bravo e allora lì si è accesa la lampadina allora dobbiamo osare, dobbiamo fare qualcosa che possa davvero rappresentarci per l'immagine e l'idea che abbiamo cioè quella di dire che il lavoro è la forma di, scusate il termine, riabilitazione più elevata perché il lavoro che stiamo cercando di proporre e che abbiamo voluto dimostrare con la concretezza è davvero uno strumento di cura, di riconoscimento di dignità La scelta di una ribalta nazionale è per condividere l'obiettivo e già in tanti imprenditori si sono messi in contatto con loro qualcuno anche per donare materie prime Ed è per questo che adesso cercheremo di parlarne anche proprio guardiamo avanti ne parleremo, proveremo a parlarne col presidente della Repubblica ne parleremo col presidente del Senato ne proveremo a parlare con sua santità il Papa cioè cerchiamo di andare dappertutto perché dappertutto questo ci permetterà di raccontare una storia vera A chi parla di strumentalizzazione il presidente della cooperativa risponde Chi dice che spettacolarizziamo o che strumentalizziamo lo pensi pure ognuno risponda con la propria coscienza però la stessa cosa la facciamo anche con gli anziani la stessa cosa la facciamo con i detenuti allora strumentalizziamo tutti o semplicemente facciamo bene il nostro lavoro? Calcio Serie D, pareggio a reti inviolate tra San Luca e San Cataldese un punto utile in chiave salvezza per i Verdi Amaranto contro una diretta concorrente per la permanenza nel massimo campionato dilettantistico nazionale in un campo difficile la squadra di San Cataldo ha dimostrato di avere i mezzi tecnici per aspirare ad una zona di classifica decisamente più tranquilla e ora testa al derby con il Licata, molto sentito dalle due tifoserie in programma domenica al Valentino Mazzola alle 14.30 i risultati dell'undicesima giornata Catania, Canicatì 3-0 Trapani, Santa Maria 2-1 Licata, Cireale 1-0 Paternò, Castrovillari 1-3 Ragusa, Realaversa 2-1 San Luca, San Cataldese 0-0 Mariglianese, Cittanova 0-1 Vibonese, La Mezzia 1-1 Locri, Sant'Agata 2-1 La classifica Catania 31 La Mezzia 21 Vibonese 20 Locri 18 Ragusa 17 Realaversa, Castrovillari, Trapani, Licata e Sant'Agata 15 Paternò 13 Santa Maria, San Luca, Canicatì 12 Cireale, San Cataldese 11 Cittanova 8 Mariglianese 3 In eccellenza la Nissa non va oltre il pari 1-1 nel confronto casalingo con l'Enna al Palmintelli Biancoscudati in vantaggio nel primo tempo con Martorana Ispirato da Morales Nella ripresa gli ospiti piggiano sull'acceleratore E raggiungono il pari su calcio di rigore Dagli 11 metri Amaya non sbaglia l'appuntamento con il gol Risultati della decima giornata Parmonval-Mazzarese 1-2 Casteldaccia-Cuspalermo 0-0 Leonfortese-Resuttana 1-0 Sciacca-Profavara 0-1 Acragas-Castellammare 1-1 Mazzara-Don Carlo 0-1 Nissa-Enna 1-1 Oratorio-Marineo-Gela 2-1 La classifica Acragas 24 Don Carlo 22 Profavara 21 Mazzarese-Enna 20 Mazzara 18 Sciacca 16 Casteldaccia 15 Nissa 12 Castellammare 11 Leonfortese 10 Oratorio-Marineo 9 Resuttana-Cuspalermo 7 Parmonval 4 Gela 3 Ben trovati in ragionamento con le previsioni per la giornata di lunedì, quando un minimo di bassa pressione interesserà ancora l'Italia, possibilità di qualche pioggia più probabile sulle regioni centrali e la Campania. Nel dettaglio possiamo notare la gran variabilità dappertutto, tra schiarite e nubi minacciose. Nel dettaglio possiamo notare come sull'Italia sarà spiccata la variabilità dappertutto, locali fenomeni sulle regioni centrali, il basso Tirreno. Per quanto riguarda il nord, anche qui tanta variabilità, locali fenomeni specie a ridosso dell'area alpina e ovest Piemonte. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Travi Meteo.